Allora amici finisce 2 a 2 questo Roma-Verona del 19 febbraio 2022, una partita veramente difficile da commentare perché come avete visto tutti quanti ha avuto due volti, è come se stessimo parlando di due partite diverse. Alla fine dei primi 45 minuti eravamo tutti molto depressi perché quest'anno sono un po' troppe le situazioni pesanti da digerire, perdere anche due partite con un Verona, lasciare 6 punti al Verona in questo campionato sarebbe stata veramente una cosa insopportabile, ma soprattutto eravamo depressi per quello che è stato il primo tempo giocato da questa squadra dalla Roma che è stato uno dei peggiori degli ultimi anni, un primo tempo sconcertante dove io molto onestamente, devo dire la verità, sono andato in un gruppo social su Facebook a fine primo tempo e ho scritto Ma stanno giocando contro qualcuno? Qualcuno sapete naturalmente a chi mi riferisco perché io a un certo momento questo dubbio ce l'ho avuto, cioè la Roma non ha giocato il primo tempo, errori di passaggi a 2 metri, Teggio Oliveira a un certo punto sbaglia a 5 passaggi consecutivi, manda il pallone in fallo laterale così sbagliamo completamente la misura dei passaggi, una squadra dominata dal Verona, sembrava veramente un disastro, ma comunque andiamo con ordine nella narrazione del primo tempo, avete visto l'Olimpico con la capienza al 50%, ancora spettacolari come sempre l'Olimpico che canta naturalmente l'inno, la partita è complicata perché già in presentazione nei video precedenti come avete visto ero molto preoccupato io per questa partita, eravamo un po' tutti pessimisti, e bisogna dire che al di là di quello che succede nella ripresa, perché questa è la classica partita che bisogna capire se voler guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, cioè una partita disastrosa nel primo tempo, poi grande reazione della Roma nella ripresa anche grazie al determinante ingresso di alcuni ragazzini, Zaleschi, Bove e il sorprendente Volpato, che del resto è un giocatore che fa parte della scuderia di Francesco Totti, di cui si dice un gran bene, quindi uno potrebbe anche vederla in chiave positiva, ma sono tante le cose da dire su questa partita. Allora, Verona in maglia bianca con richiami giallo-blu, abita il signor Pairetto di Nichelino, che poi in fine partita ha una rotta ricollisione con Giuseppe Mourinho, arrivando addirittura ad espellarlo, perché i quattro minuti di recupero sono apparsi effettivamente pochi, visto che effettivamente il secondo tempo il Verona è stato più in orizzontale che in verticale, stavano sempre per terra, ci mettevano due minuti tutte le volte per rialzarsi, ma io credo che poi alla fine questa pantomima continua che fa Mourinho contro gli abiti, poi alla fine sono sempre più convinto che finisce per ritorcerti contro di te. Non sei alla Juventus, non sei all'Inter, non sei al Milan, sei in una squadra che ha sempre avuto rapporto non di odio amore, di odio con gli abiti e ci sono sempre stati problemi con gli abiti, perché è una squadra che evidentemente nel palazzo purtroppo ha sempre dato fastidio, perché non si può neanche dire che conti poco la squadra della capitale, evidentemente dà fastidio e ci sono sempre stati problemi e questo continuo lamentarsi, perché lui adesso che tra l'altro non parla, non ha parlato Mourinho dopo la partita, che è incazzato nero, dirà che c'erano 7-8 minuti di recupero, ma non se ne esce così da questo pantano, questa continua lamentazione, mi ricorda, avete presente, con tutto rispetto, lo dico con tutto rispetto, perché ogni essere umano ha la sua vicenda, la sua storia, però, diciamo, avete presente, ma ripeto, con tutto rispetto, senza voler offendere, quella consolidata tecnica, diciamo, strategia di comunicazione, la chiamiamo così, la classica zingarella che è tutto un lamento, ogni volta che ti dà, dammi un euro, dammi due euro, dammi tre euro, dammi qua a te perché io sono povero, perché ho i figli, perché sto in mente, tutto quel lamento, alla fine dopo un po' cioè ti crea un effetto di repulsione nel senso che ti rompi talmente le scato che devi sentirla che comincia a pensare però pure io ho i miei problemi ho le bollette da pagare e tutto quanto devo andare a lavorare eccetera eccetera e mi ha detto che tutti i giorni ti posso dare un euro, due euro scatta questo meccanismo anche se è un meccanismo un po' duro diciamo detto così e un po' secondo me io non lo so se questo esempio è calzante e vi fa capire però questo sempre lamentarsi io non so se è il modo di costruire una squadra vincente perché ogni partita tanto già si sa che ci sarà la polemica sul rigore non dato sul fuorigioco fischiato sulla palla fallo di mano non visto sulle perdite di tempo sull'overtime ormai è diventata un po' una un lead motive che rischia di ritorcersi secondo me contro di noi il Verona si è messo in campo con il 3-4-2-1 Montipò Casale Gunter Cercherini Faraoni Tamezze Illy Klazovic Baracca Prari e Simeone Roma in campo con una formazione che io sapete ho già bocciato nel video di presentazione della partita quindi ragazzi io non è che sto sfidando a Coraciano sono 40 anni che vengo a partire nel calcio però non è che ero il solo che ero perplezzo ecco se avete sentito un po' la radio di vedere questo nuovo modulo 4-3-1-2 con Rui Patricio Cardo Smolin con Bullavigna Metran Cristante Oliveira malissimo Oliveira oggi però Pellegrini Felix Ebram qui il primo errore ragazzi qual è stato? è stato quello di far giocare Cardo perché uno deve seguire la logica nella costruzione della squadra allora voi sapete che io so purtroppo ragazzi ognuno ha il suo modo di vedere il calcio io a Cardo alla Roma non lo farei giocare insomma lo sapete perché l'ho detto tante di quelle cose però non lo voglio massacrare cioè è un giocatore della Roma io lo Mauro che da qua a fine campionato faccia 8 con la partita cioè capito però si è detto dopo la mattina di Ciassuolo scusate dove Cardo purtroppo ha sbagliato lo sappiamo il secondo gol in modo inquietante ma ha sbagliato anche tante cose cioè non è diciamo proprio in condizioni ottimali si voleva dare un turno di riposo poi tanti infortuni la cosa l'altra si è deciso di far giocare ma è stato un errore perché Cardo non era in buone condizioni e lo abbiamo rivisto anche oggi questo è stato il primo errore poi c'è l'enigma Sergio Oliveira che si esce a capire Sergio Oliveira che è venuto ha fatto due bellissime partite poi è scomparso mi sembra addirittura ingrassato io non so ma questi quando vengono a Roma non si riesce a capire bisogna tenerli in un non so come si chiama in un bunker non farlo uscire solo il giorno della partita non si riesce a capire oggi sembrava veramente il nipone il cugino il cugino veramente che lavora in una birreria Oliveira non so che dirvi Maitland ha confermato insomma essere quel giocatore mediocre che purtroppo l'avevo visto bene quando ho visto i video su youtube quando è arrivato Lex Arsenal è un giocatore che non è né scarso né anche forte però non so speriamo che migliori un po' ma è è un po' un tappabuchi diciamo ecco la realtà di Maitland Nice è quello di essere un tappabuchi non mi sembra proprio un giocatore ci consentirà non sarà neanche il nome confermato ecco io la vedo così male anche per le grini che dicevano po' anzi in radio proprio mi pare Federico Nisi se non sbaglio che ha giocato senza senso cioè non si capiva in che ruolo giocava andava un po' da tutte le parti così ha sbagliato anche degli stop che non sono da lui non è che mi sia sembrato in condizioni fisiche ottimali ma io una cosa la devo dire la devo dire perché tante volte vengo pure criticato perché dici tu parli male di Pellegrini parli male di Cristante parli male di Casdo parli male di questi giocatori da l'inizio della stagione dopo 26 turni di campionato siamo noni praticamente perché la Fiorentina ha due partite in meno ci scavalcherà cioè siamo noni siamo usciti dalla Coppa Italia ma la Coppa Italia lasciamola perdere perché c'è un regolamento cioè tu giochi con l'Inter nei quarti di finale poi è chiaro che a Milano un gara secca è chiaro che esci quindi lasciamola anche perdere la Coppa Italia quindi ora la conferenza che vedevo di abbiamo perso 6-1 dal Bodo Klimt vogliamo parlare della conference se parliamo della conference vedremo vedremo che cosa succederà ma al momento siamo lì insomma c'è tutto ancora da giocarci comunque dopo 26 giornate siamo noni se siamo noni ottavi siamo ottavi chi c'aveva ragione purtroppo c'avevo ragione io dicevo ci sono dei giocatori che non sono buoni oppure la Roma era forte e per qualche misterioso motivo e filosofico non so non si sa che cosa e nona ottava ma anche se fosse settima e soprattutto non mi voglio neanche guardare i risultati le sconfitte e il modo di giocare che è preoccupante perché oggi nel primo tempo tra l'altro viene anche annullato il gol del 3-0 al Verona che ci avrebbe veramente probabilmente anche è un momento importante della stagione della Roma quel gol perché secondo me sullo 0-3 non si recupera più questa partita e salta anche la panchina secondo me perdiamo 0-3 in casa con il Verona salta la panchina ragazzi poi altra cosa da dire quindi per dire il fatto che la Roma non ha dei giocatori all'altezza non lo dico io lo dice Murigno lo ha detto Murigno dopo Bodo Grim c'è uno ha detto in modo chiaro e anche che ha praticamente defenestrato alcuni giocatori come Majoral Viviarra Di Avaral sapete Calafiori tanti giocatori hanno pagato quella pessima esibizione ma anche Francesco Totti che non è certamente uno che di calcio non capisce lo ha detto che in questa squadra non ci sono campioni ma mi pare poco e dove va arrivare con una squadra senza campioni lo stesso allenatore che è uno che di calcio qualcosa capisce è una vita che sta nel calcio anche perché prima di fare l'allenatore voi sapete che Murigno è un giocatore è un difensore dall'altro non so quanto bravo però insomma non è a certo un fenomeno e forse proprio perché non è un fenomeno ha imparato alcune astuzie alcune furbizie che vediamo li vediamo usare anche come allenatore quindi la realtà è questa la Roma purtroppo per tutta una serie di motivi per tutta una lunga serie di motivi ha delle difficoltà nel mettere in campo 11 giocatori forti questo è il problema ma soprattutto poi la difficoltà anche nei cambi si è cercato nel calcio mercato invernale con Sergio Oliveira e me Trannais di cercare di dare qualche giocatore in più a quest'allenatore ma per ora i risultati non è che si vedono molto oggi diciamo che Murigno mi potrebbe sempre dire raga a me mi mancavano 10 giocatori che sono che poi non sono 10 secondo me che sono Boer tra le squalifiche infortuni El Sharawi Ibagnaz Mancini Mkhitaryan Calle Perez Shomuro dove Zaniolo con Pinazzola non lo contiamo mancava obiettivamente mezza squadra e soprattutto la mancanza di Zaniolo chiaramente ha pesato tantissimo nelle partite con Sassuolo e con il Verona però Murigno perché ha pesato tantissimo l'assenza di Zaniolo che è un giocatore che non ha surro cioè è un giocatore che anche cioè a livello anche di come giocatore italiano anche a livello di altre squadre non è facile trovare un giocatore che possa sostituire Zaniolo ha delle caratteristiche molto particolari anche a livello fisico anche a livello di forza fisica però il problema Murigno sai qual è che tu Zaniolo lo hai sostituito con il povero Felix Afenagian che è un giocatore che purtroppo a me mi dispiace veramente dirlo mi pesa perché ci avevamo creduto tutti dopo le due buone prove offerte a Cagliari a Genova con l'Igenova purtroppo questo ragazzo lo stai bruciando questa è la verità Felix non è un giocatore pronto per la Serie A alcune scelte come quella per esempio di coccolare questo ragazzo viziandolo un po' comprandoli ricordate il famoso episodio delle scappe da 800 euro che sono uno schiaffo alla gente che salta alle 5 di mattina per andare a lavorare seriamente ragazzi non ci dimentichiamo che siete dei privilegiati però tu fai una partita in Serie A vuoi le scappe da 800 euro perché 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 cosa mi devono rappresentarsi le scappe non hai fatto un cazzo cioè te ne annasci adesso non so non mi ricordo neanche quanti anni c'ha sto ragazzino hai fatto un gol in Serie A vuoi le scappe da 800 euro ma con questa mentalità do cazzo vai ma impara da giocare a pallone piuttosto prima di prenderti le scappe da 800 euro Mourinho le scappe da 800 euro comprale ma comprale per i cazzi vostri non ti mette a fare il figo che fai vedere che gli compri le scappe per coccolarlo per viziarlo e tutte queste storie qua perché non ha fatto un cazzo Felix per avere le scappe da 800 euro è stato semplicemente un capriccio che denota che questo ragazzino aveva subito un po' perso la testa che ha un po' perso il contatto con la realtà e non ti rende conto di quanto deve lavorare per diventare un giocatore Serie A che io sinceramente io non lo so se questo è un ragazzo che poi resterà diciamo in Serie A perché io vedo cioè mi sembra uno che il pallone gli rimbalza addosso quando glielo passano ecco lo dico chiaramente sarà veloce finché vi pare uno che si impegna corre baglia anche tanto ma è un po' un truppone come si dice a Roma insomma e mi pare che la gestione di Felix soprattutto dopo aver visto come gioca Zaleschi ancora una volta anche lo stesso Volpato che è un giocatore molto interessante secondo me è chiaro che essersi in testa a diti su Felix mi sembra che sia stato un grosso errore di Giuseppe Mourinho perché Zaleschi mi sembra un giocatore lo sappiamo tutti tecnicamente molto bravo giovane ma mi sembra che sia proprio un'altra passa rispetto a Felix Afena al quale auguro ogni bene fra un'infortuna e tutto quanto ma ho l'impressione che purtroppo su Felix abbiamo preso un grosso abbaglio tutti quanti che sia un gigantesco bluff giocatore molto veloce ti butta tutti i palloni qualche volta gli va bene ma manca purtroppo la cifra tecnica scusate se è poco ma noi ci siamo ottavi 9 in classifica per questo motivo qua che ci vogliamo sbarcare a Lunario con giocatori così tra l'altro oggi male anche Ebram non so il motivo una partita è stata irriconoscibile secondo me Ebram oggi nel Verona assenti Davidovic fra botta Pandur e veloso Verona benissimo nel primo tempo crolla nel secondo tempo non so se è stata una strategia ma si è giocato praticamente a una porta nel secondo tempo come avete visto la Roma alla fine avrebbe potuto anche vincere questa partita parte malissimo stamattina al quinto minuto sugli sviluppi di un cross di Faraoni e palla respinta arriva Barak che avevo definito un cacacacci nel video di presentazione Caprari Simone e Barak sono tre cacacacci i giocatori non li devi lasciare tirare in porta non li devi lasciare spazio e ci ha castigato subito ti mette subito male ma poi dopo questa Roma comincia questa Roma spenta timida ferma sulle gambe non si capisce io comincio a pensare appunto che la squadra sta giocando contro l'allenatore questi ti sono stufati vogliono cambiare l'allenatore perdono oggi col Verona e non sarebbero più io questo ho pensato e invece poi nel secondo tempo verrebbe da dire inspiegabilmente cambia tutto ma questa è una partita da psicologo cioè il Verona era padrone del campo al ventesimo raddoppia contamezze la Roma mette in mostra tutta una serie come dicevo di problemi tecnici errori inspiegabili errori tecnici proprio nei passaggi negli stop Caprari sembrava il primo Bruno Conti scatenato immaccabile in questo momento della partita alla mezz'ora va vicino allo 0-3 il Verona con un diagonale che esce di poco di Simeone in mezzo a tanti errori di Cardop al 33esmo viene annullato poi lo 0-3 che viene marcato da Simeone mi pare per fuori gioco se ricordo bene il primo tempo finisce tra i fischi impietosi della curva sud che a un certo momento si era veramente rotta ai coglioni perché non si può giocare così puoi anche perdere lo dico sempre ma non giocando in questa maniera qui nella ripresa Murigno che non ci ha capito una marcia nella preparazione di questa partita io Murigno te voglio bene però se sbaglia nella vita sai quanti errori ho fatto in una vita Murigno sbaglia e sbaglia formazione sbaglia gli uomini su cui puntare e lo vedremo nel secondo tempo quando cercando di correggere questi errori dice io ormai qua devo cercare cambia tutto siamo perdendo non c'è niente da fare dentro un impalpabile riconoscibile inquietante Sergio Oliveira che se è questo abbiamo fatto proprio l'affare della vita a prenderlo speriamo che torni a essere un giocatore di calcio perché quello di oggi veramente sembra Giardinieri di Trigoria che gli hanno chiamato e hanno detto guarda manca un giocatore vieni a giocare tu poi entra Zaleschi per Vigna che è un altro giocatore anche questo che diventerà purtroppo alla lunga un mio bersaglio perché sono questi i giocatori che ci portano all'ottavo posto giocatori di calcio che giocatori di calcio non hanno particolari talenti poi entra questo giovane interessantissimo volpato per Felix che viene sostanzialmente bocciato e bruciato ancora una volta da Molino che non sta ripeto gestendo bene questo ragazzo perché lo ha sopravvalutato e non ha capito lui nella sua testina cosa pensa testina così in senso scherzoso buttiamo una palla lunga Felix va in velocità crossa al centro e bam segna questa è un po' la semplificazione di questo perché come il gioco di Murino la fase difensiva è importante non so se mi sono spiegato ma purtroppo Felix non è Balotelli come quando c'era Balotelli all'Inter che ha i colpi di Balotelli cioè la tecnica il tiro da lontano il colpo di testa non c'ha questi colpi Felix è un intruppone è un ragazzo che adesso si deve far subito un anno in serie B lascia la perdere la serie A non lascia la perdere veramente gli fate del male a farlo giocare in serie A in questo momento qua in questo momento lui deve stare tranquillo andarsene in panchina vedersi un po' di partite riflettere e poi a fine stagione si fa un anno in serie B se ne va in serie B si fa un anno e gioca 30 partite e si vede un po' così l'evoluzione ma non è proponibile purtroppo il calcio è strano perché uno un ragazzo entra così a marassi se ha un gol come quello che è stato il secondo gol di questo tiro da fuori bellissimo e poi invece si rivela un giocatore tecnicamente inadeguato tante volte ma purtroppo una rondine non fa primavera non basta tirare una volta l'incrocio dei pali per essere forti è tutto quanto tutta quanta la gestione dei 90 minuti in giocatori calcio oggi deve trattare per fare tante cose non basta non basta avere dei colpi devi difendere devi attaccare devi avere tecnica devi avere tattica devi avere preparazione atletica devi avere testa e ce ne vogliono dei cose ragazzi devi anche integrarti bene in un gruppo in uno spogliatoio che cosa che non tempo succede poi entra un altro giocatore che secondo me è molto interessante ed è Bove cioè il ragazzo che ha segnato il gol del pareggio ma che non è nuovo a buone prestazioni entra per il Michael Neist che è un altro che in questa partita in sostanza è stato un po' bocciato da Mourinho ma anche da me ma io l'avevo bocciato già come vi ho più volte detto l'avevo visto molto chiaramente andatevi a vedere i video su youtube di in premier insomma è un giocatore che prende palla la porta avanti poi la passa a quello vicino oppure crossa molte volte sbaglia e crossa perché non è un buon crossatore come non è purtroppo un buon crossatore caldo che abbiamo visto anche oggi insomma nel secondo tempo per tornare alla cronaca di questa partita con l'uno della Roma in live che va a 12 pensate un po' da 2.05 all'inizio partita è andato a 12 e il pareggio a 6 pensate all'inizio del secondo tempo la Roma si scuote perché si scuote perché il Verona non so se ha finito la benzina se è stata una scelta per non perdere lucidità si sono messi tutti dietro hanno cercato di buttarla un po' in cacciara rimanevano tanto a terra quando venivano a terra eccetera eccetera hanno cercato di perdere tempo in sostanza ma è stata una tecnica una tattica un po' suicida secondo me poi entrano questi ragazzini Volpato che ha segnato il gol dell'1-2 poteva segnare anche il gol del pareggio Bove che ha segnato un bellissimo gol ed è un gol strepitoso però adesso non ne facciamo un altro fenomeno il discorso non facciamo come Felix non facciamoli giocare facciamoli crescere perché una volta Darbo è un fenomeno l'altra volta Felix l'altra volta un altro bisogna farli crescere farli giocare tanto vederli tanto per esempio Zaleski è un giocatore che a Roma si sa che è forte cioè è forte a livello tecnico è un giocatore che tecnicamente non si può neanche lontanamente paragonare a Felix Felix come ho detto prima ma mi dispiace dirlo perché mi dispiace la mia non vuole neanche essere una bocciatura ma a me dispiace perché questo ragazzo gli si è stata scaricata sulle spalle una responsabilità troppo grande è un ragazzino che si trova a giocare vicino a un giocatore importante come Temi Ebram in una squadra che gioca male dove spesso viene un po' lanciato solo contro tutti è stato un po' gestito male secondo me Felix Zaleski è un giocatore tecnicamente bravo che quando è entrato in campo ci ha messo qualche minuto per prendere le misure e poi ha fatto vedere di avere dei colpi importanti come ha dei colpi importanti colpato che è un giocatore più forte di quello che pensavo che mi sembra ma un giocatore proprio che ha come dire la postura ha la postura giusta per ogni situazione cioè è bravo a cogliere la palla quando la protegge fa i movimenti mi sembra molto ben impostato a livello tecnico e questi giocatori hanno cominciato a fare la cosa più semplice di questo mondo per una squadra a giocare a pallone sono messi a giocare a pallone facendo le cose fatte bene i passaggi calibrati con una certa proprietà di palleggio e tutto quanto e la Roma è riuscita a pareggiare una partita che era persa e strapersa e si è sotterrata ripeto se tu lo 0-3 il terzo gol di Simeone viene convalidato per me salta la panchina io sono convinto di questo adesso però c'è un altro discorso da fare Roma Verona è finita 2-2 domani Murigno sposterà abilmente come al solito l'attenzione mediatica tutta sul fatto che non sono stati dati abbastanza minuti di recupero che c'era un rigorino su Lorenzo Pellegrini che è stato spinto sull'1-2 sull'1-2 tutte queste vicende qua e che il Verona pur giocando bene ha fatto troppo istruzione perché stavano sempre per terra a perdere tempo e bla 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 e sposta l'attenzione e sposta sì l'attenzione su quelli che sono i veri problemi cioè allora questa squadra qui raga parliamo se chiaro sta giocando di merda ma non sta giocando di merda oggi ieri sono mesi che sta giocando di merda questa squadra tra l'altro ha una caratteristica che per una squadra di calcio che vuole arrivare in alto è deleteria al massimo cioè nell'arco dei 90 minuti alterna momenti di gloria dalle stelle alle stalle il momento gioca benissimo il momento gioca malissimo come oggi è successo primo tempo da cacciare tutti a pedate primo tempo cioè fine primo tempo i fritti dovevano scendere negli spogliatoi e dire ai giocatori allora voi siete i nostri dipendenti vi paghiamo lo stipendio benissimo allora da domattina tu vai a fare il giardiniero e altre cose tu il magazziniere tu vai a lavorare al bar tu pulisci questo dovevano fare lo stipendio ve lo paghiamo ma mettiamo a fare cose che sapete fare perché voi a pallone non ci sapete giocare questo andava detto alla fine del primo tempo secondo tempo ripeto cambia tutto io non lo so che cazzo si sono detti negli spogliatoi sarebbe interessante sentire sapere che cosa ha detto Moino negli spogliatoi come ha cercato di risvegliare nell'orgoglio nell'intimo proprio questi ragazzi ma evidentemente ci è riuscito perché la Roma-Verona primo tempo è una partita Roma-Verona secondo tempo è un'altra partita ma è un altro sport è una cosa incredibile come è stata a due volti però ripeto io non voglio più manco guardare la classifica ma che la guarda fa la classifica all'ottavo posto al nono posto che senso c'ha ormai abbiamo visto dove arriveremo a fine stagione voi pensate che si possa rimontare che si possa arrivare dove dove dobbiamo arrivare che tutte le volte che giochiamo con una squadra fra le prime 4-5 prendiamo tutte le volte a casa e anche fuori tra l'altro prossime partite Spezia-Roma che già è una partita se non dovini la formazione è anche qua complessa perché questi devono salvare giocheranno come al solito col coltello fra i denti una partita da vincere ma era da vincere anche quella di oggi era da vincere anche quella col Sassuolo era da vincere anche quella con Genoa quindi già il secondo tempo di Empoli che la Roma ha vinto 4-2 ma primo tempo 0-4 poi prende due gol è stato un campanello d'allarme che noi abbiamo sottovalutato perché anche lì partita a due volti primo tempo molto bene secondo tempo non ci stiamo attenti andiamo anche a finire 3-4 rischiamo alla fine anche di qualcosa di incredibile quella partita fu fu un campanello d'allarme come fu un campanello d'allarme anche tutto sommato Roma-Cagliari vinta solo 1-0 con una squadra che all'epoca mi pare che fosse addirittura penultima una squadra che era in piena crisi e fu naturalmente un grande campanello d'allarme anche il fatto che la Roma contro la Juventus il 9 gennaio insomma come sapete vinceva 3-1 a 20 minuti alla fine 70 minuti benissimo poi 20 minuti disastrosi prende 3 gol e perde ma è stato un campanello d'allarme anche il 12 gennaio gli ottavi di Coppa Italia Roma-Lecce 3-1 perché noi siamo riusciti ad andare sotto oppure con il Lecce di serie B siamo andati sotto mi pare che il primo tempo è finito 1-0 non ricordo male comunque siamo andati sotto con Lecce capito quindi è evidente che è una squadra che non ha una continuità soprattutto dentro i 90 minuti ed è un limite enorme in una squadra di serie A enorme al punto che siamo ottavi non è che noi siamo ottavi per caso perché veramente gli abitri non ci hanno dato un rigore o non ci hanno dato un fuorigioco o quel fallo di mano doveva dare il vantaggio ma non poi tutte le volte oggi c'è 10 infortunati l'altra volta c'è il covid l'altra volta il rigore non dato l'altra volta il gol annullato al novantesimo l'altra volta però c'è Zagnolo fuori perché l'altra volta mancherà un altro cioè e tutte le volte c'è sempre una giustificazione diciamo che giochiamo male che ci sono giocatori che possono giocare a questa maglia quante volte l'ho detto l'ho detto tante volte adesso qua la situazione è questa questa partita è nata purtroppo sotto cattivi auspici già nei giorni precedenti e infatti nei video ripresentazione ho detto tante volte che c'era tanto pessimismo questa partita perché tutti questi infortunati un momento difficile tante polemiche eccetera eccetera cambiare allenatore non è proponibile non è proponibile ma tu chi ci metteresti e chi ci metterei ci metterei Claudio Ranieri e a fine campionato Claudio Ranieri mi sembra che si è stato esonerato dalla squadra inglese che adesso non mi ricordo neanche qual era ma non è una cosa che nulla toglie alle sue capacità sappiamo tutti chi è Claudio Ranieri sappiamo tutti che Cota rappresenta la Roma per Claudio Ranieri che ha fatto sempre bene quando è stato chiamato ha vinto la premia con la Lester un uomo di grandissima esperienza destra e sinistra però c'è sapete il partito dei prof Paolo Fonseca c'è questo partito anche e a questo punto è meglio fatto Anna Fonseca perché comunque si giocava meglio eccetera io ritengo io ho detto il mio pensiero però ritengo che noi abbiamo sposato questo progetto Murigno e non ha senso cercare di cambiare in questa fase perché si rischia alla fine di alimentare una grande confusione e di rovinare questo progetto triennale diciamo che più o meno triennale che va a valutare secondo me dopo i tre anni ecco però devo anche dire che non siamo soddisfatti dei risultati ma non siamo soddisfatti soprattutto del gioco perché noi li vogliamo bene a Murigno perché poi ci siamo anche affezionati a questo personaggio così vulcanico sempre sopra le righe com'è un po' il romano cioè il romano è così il romano è uno che dice tutto quello che pensa è uno che dicevano lacce che si incazza con facilità ma poi gli passa anche con facilità il romano è così e lui ha queste caratteristiche molto latine come siamo fatti noi quindi è entrato nelle nostre corde nei nostri cuori però io sinceramente vi faccio per esempio non sia mai non sia mai faccio un esempio facciamo un turno di Conference League magari lo passiamo pure il turno successivo usciamo dalla conferenza speriamo che non ti succeda mai c'è qualche squadra rompicoglioni in Conf per esempio il Marsiglia ci rimaniamo anche con un'altra adesso non mi ricordo in questo momento c'è qualche squadra che può rompere i coglioni diciamo che usciamo dalla Conference League a questo punto uscite dalla Conf della Coppa Italia e ottavi in campionato andiamo avanti non lo so non so se se la squadra non fa registrare dei miglioramenti a livello di gioco non altro a livello di gioco e di continuità non diventa complicato arrivare fino a fine stagione con Mourinho quindi io credo che le prossime partite di Conference saranno importanti per questa panchina qui saranno molto importanti poi tra l'altro vediamo un po' che vi voglio dire un po' le partite che allora adesso c'è Spezia Roma poi c'è Roma Atalanta ragazzi il 5 marzo c'è Roma Atalanta che è una partita difficilissima che si può anche perdere Atalanta è più forte della Roma tra l'altro oggi il capolavoro di Percassi che ha venduto per una barca di soldi l'Atalanta ma non tutta un capolavoro ha fatto una squadra comprata a 14 milioni di euro da Percassi e rivenduta a questo fondo americano ma solo in parte incassando 300 milioni di euro però rimanendo con il 45% del pacchetto azionario e presidente della squadra cioè una cosa proprio veramente da leccarsi i baffi e me la fai solo i complimenti perché veramente dimostra di essere un grande imprenditore per Casi Atalanta che è stata valutata tra l'altro in questa trattativa a 500 milioni di euro vale l'Atalanta è un segreto questa è una squadra negli ultimi anni ha giocato un calcio strepitoso che io voglio dire allora mi viene in mente che ogni tanto la tiro fuori questa storia quando un ragazzino mio padre mi portò a giocare nelle giovanili del Latina che era la squadra della mia città allora mi disse ma sai tu gioca per divertirti perché tanto sai nel calcio erano gli anni oh mamma mia primissimi anni 80 ma poteva essere forse proprio l'80 poteva essere il calcio non era ancora quello che è diventato dopo soprattutto dopo l'entrata di Berlusconi nel Milan che i costi sono aumentati tantissimo perché Berlusconi ha proprio un altro tipo di mentalità nel calcio italiano allora mio padre mi diceva tu gioca per divertirti perché poi nel calcio girano pochi soldi si guadagna poco allora pensate che cosa direbbe a pensare che un'Atalanta non stiamo a parlare della Juventus oggi vale 500 milioni di euro e c'è un fondo americano che ha comprato per 300 milioni di euro quote dell'Atalanta pensate che roba ragazzi e ne so cambiate le cose in questi 20-30 anni poi il calcio italiano e lo dico ai più giovani ha avuto un grosso cambiamento dopo la vittoria dei mondiali dell'82 quella vittoria ha cambiato la storia del calcio in Italia perché si è capito anche a livello politico proprio che il calcio era uno spettacolo che aveva una grandissima potenzialità aggregativa cioè era una cosa che teneva proprio insieme la gente a livello sociale a livello sociologico a livello culturale tra virgolette è una cosa che affratellava proprio il popolo e quindi si è capito che poteva essere una cosa importantissima anche per esempio dagli sponsor che dovevano pubblicizzare i loro prodotti e quanti calciatori sono diventati nel tempo testimonial eccetera eccetera vedete che c'è stata i mancati incassi a causa del covid quindi una pari complimenti all'Atalanta che andiamo a incontrare il 5 marzo una partita difficilissima il 13 marzo Udinese Roma il 20 marzo ci sarebbe il derby e poi il 3 aprile Sampdoria Roma che la Sampdoria adesso sta migliorando tanto però ti è rinforzata molto sarà una partita complicata anche questa e poi finalmente il 10 aprile c'è Roma Salernitana che dovrebbe essere una partita più semplice la Salernitana che ha il DS il vecchio Walter Sabatini e tra l'altro stasera sarà impegnata contro il Milan a Salerno quindi partite insomma che io per esempio la butto là la butto là perdiamo la spezia non sia mai però perdiamo la spezia che succede dopo avere pareggiato in cata con il Genova avevi pareggiato a Sassuola avevi pareggiato con il Verona avevi perso con la Juve essere usciti dalla Coppa Italia con l'Inter andiamo alla spezia e perdiamo che succede è una bella domanda vero oppure pareggetto alla spezia 1 a 1 e poi perdiamo in cata con l'Atalanta l'altra volta decima sconfitta anche qua quindi 4 pareggi di fila per la sconfitta dall'Atalanta eliminazione in Coppa Italia con l'Inter capite che vacillerebbe sta manchina morale della favola caro Murigno cambia è il momento di cambiare cambia è il momento di capire è il momento di capire chi sa giocare a calcio e chi non sa giocare a calcio purtroppo Felix Afena in questo momento mandiamolo a giocare nella primavera che si fa il suo campionato tranquillo della sua categoria dove potrà imporre le sue qualità fisiche atletiche cerchiamo di recuperare i giocatori più importanti che purtroppo molti sono infortunati alla spezia si gioca il 27 febbraio ma una settimana c'è tutto il tempo poi cerchiamo di capire che ci sono dei ragazzi che sanno giocare a pallone in questa panchina e non saranno Maradona e Pelè però mi sono sembrati interessanti questi tre ragazzi che sono entrati oggi bisogna fare dei correttivi bisogna fare dei correttivi e poi l'altra cosa che andrebbe capita è che io non riesco a capire sinceramente cioè quando un giocatore come Sergio Oliveira o Lorenzo Pellegrini è in queste condizioni ma si dovrebbe vedere già in allenamento che non ci sta con la testa il giocatore perché oggi Sergio Oliveira è veramente qualcosa di inquietante in questo primo tempo sembra un'altra persona Burigno deve fare dei cambi deve mettere in campo persone che sanno toccare bene il pallone che sanno giocare bene al pallone e Volpato è uno di questi non ti dico che devi far partire al primo minuto Volpato però sto giocatore mettilo nel radar perché io vedo oggi mi è piaciuto molto a me Volpato Zaleschi ci sa che è forte lo ripeto ancora lo sanno tutti che è forte per Zaleschi io mi ricordo che già quest'estate c'era gente che osservava se mi ricordo Luca Brizzi per esempio un ragazzo che mi segue un tanto diceva Zaleschi è forte facciamolo giocare titolare cioè gente cioè questi sono giocatori tecnicamente bravi oggi ci hanno levato dei bei problemi contro Verona perché questa partita era persa la partita l'hanno riaperta loro Volpato Bove e Zaleschi quindi questo bisogna tenere conto e poi soprattutto Mourinho invece di attaccare sempre gli abbi attaccarsi a qualsiasi cosa eccetera per giustificare determinate cose deve entrare nella testa di questi ragazzi e deve capire perché giocano così male certe volte se poi sbagliare un passaggio a 2-3 metri non si riesce a capire questa cosa qual è il problema capire qual è il problema è un problema tattico un problema tecnico devono insegnare a giocatori di quasi 30 anni come si passa una palla a 10 metri di distanza non lo so il problema fisico qual è il problema giocano troppo alcuni giocatori io personalmente ho le idee come l'ho sempre detto ho le idee chiarissime su quelli che sono i giocatori che bisogna mandare via l'ho detto tante volte a giugno sarà comunque rivoluzione però una cosa pure la devo dire ma che fastidio vedava Borgia Maiorale in panchina io non riesco a capire questa cosa oggi per esempio Borgia Maiorale sarebbe secondo me stato molto utile vicino a Ebram sarebbero pensati in poi i piedi ma tu avevi sempre un giocatore che è una prima punta che è uno che tira molto in porta che trova la porta che segna tanto che poteva sicuramente anche nel primo tempo a mio parere dare veramente una profondità anche sulle palle alte sfruttare sulle palle alte io la cessione Maiorale non l'ho capita la verità è vero che è stato molto criticato da Mourinho dopo la mattina il Bodo Klimt anche troppo però come si è ricuscito con Kumbull anche con l'occasione si poteva forse Maiorale ha un carattere un po' diverso ma io non ho capito chi è il vice Ebram perché Shomurodov non mi sembra una prima punta a me quindi io la butto là ma se si è infortuna Ebram come funziona qua giochiamo con questo Shomurodov che però non è la prima punta gli facciamo fare la prima punta sta giocando andando talmente male Shomurov quindi per me gran cazzata quella di Trabia Maiorale comunque la situazione ad oggi 19 febbraio 2022 è questa non riusciamo a battere squadre come Genoa Sassuolo e Verona quindi sicuramente dobbiamo essere preoccupati e Mourinho deve essere preoccupato il futuro di questa squadra è molto incerto e sicuramente legato alle prestazioni soprattutto ai risultati che saremo capaci di ottenere in Conference League sono questi i risultati che ci possono portare avanti in questo progetto se dovessimo uscire anche dalla Conference League sinceramente non so come andrà a finire questa stagione per Giuseppe Mourinho a cui comunque rinnovo la mia fiducia perché tutto sommato anche oggi in fondo con questi cambi anche colaggiosi è riuscito a riprendere una partita che ormai era persa grazie per l'attenzione e vi saluto grazie per l'attenzione